Buonasera a tutti e benvenuti a Carte Scoperte. Sono Diego Dallamaestra, opero nel settore cartario da oltre 20 anni e durante il mio percorso ho avuto la fortuna di viaggiare e incontrare grandi protagonisti di questo mercato, imprese ma soprattutto persone che hanno saputo trasformare sogni in successi, storie che meritano di essere scoperte insieme a voi. Questa sera a Carte Scoperte incontriamo Maurizio Ricciardi, agente vendite Gambini SPA e collaboratore alle vendite Mach 2 Automatic Packaging Machines, ma soprattutto quasi un'istituzione in Lucasia e diciamo grande amico fraterno. Benvenuto Maurizio. Buonasera, benvenuto a te, grazie del mio invitato. Questa sera è una puntata di chiusura, oggi abbiamo un ospite particolare per una puntata particolare. Maurizio devi sapere che in questo viaggio abbiamo raccolto diverse testimonianze che hanno rappresentato più o meno tecnicamente ma comunque ognuna nello specifico uno spaccato di questo mondo del tissue, dal converting al packaging, i materiali, le macchine, e le tecnologie. Oggi vorrei approfittare della tua presenza per ripercorrere questi ultimi 40 anni di tissue attraverso la tua grande esperienza. Non vorrei dunque portare un'altra testimonianza, passami il termine tecnica, ma piuttosto fare un salto indietro nel tempo e grazie alla tua ricca esperienza in questo settore comprenderne un po' l'evoluzione. Maurizio nasce come tecnico nell'azienda di riferimento mondiale del converting. Raccontaci come sei passato da tecnico a venditore, quali sono stati i passaggi chiave in questo viaggio e quali sono le persone che ancora oggi porti nel cuore? Una domanda abbastanza complessa. Complessa, sì, però anche che mi fa ritornare indietro nel tempo e ricordare che io ero un tecnico, in quel periodo facevo parte del consiglio di fabbrica e c'è stata una trattativa per il contratto aziendale e sono stato a contatto con i dirigenti di questa grande azienda e lì siamo riusciti a raccogliere dei risultati inimmaginabili come trattativa. Abbiamo ottenuto il raddoppio del premio di produzione, due visite l'anno di specialisti in fabbrica e mi sembra un milione e mezzo di una tantum nell'86. Pertanto questa cosa qui è rimasta un po' impressa ai dirigenti di quel periodo e mi è stato detto anche dopo di questa cosa e mi hanno proposto di andare alle vendite. Lì per lì è stato un po' cioè un qualcosa che mi ha un po' spiazzato anche se ci avevo dentro proprio l'anima del venditore perché anche da piccolo mi divertivo con questi banchetti a vendere i giornalini, le cose che in casa non usavamo più e... Però sicuramente un cambio... È stato un cambio incredibile, no? Cioè mi si presentava il sogno della mia vita, però era anche difficile perché andavi a cercare di vendere, di piazzare degli impianti che costano miliardi di lire a quel tempo lì e non è che avessi una conoscenza delle macchine e del settore. Pertanto mi sono affiancato a questi grandi dirigenti che sono stati per me diciamo un punto di riferimento da Fabio Perini a Ettore Bartoloni a Carlo Silvestri, non per ultimo un ingegner che tu conosci, che ci hanno preso e ci hanno allevato, ci hanno insegnato un metodo nuovo di andare dai clienti, di diventare consulenti dei clienti, non il tipico venditore. Si può dire che a quei tempi si stava un po' consolidando quella che era la prima generazione di venditori della Fabio Perini. Si, diciamo che a quel tempo lì nasceva, sbocciava la Fabio Perini diciamo, no? Era già un'azienda a livello mondiale conosciuta, però stava per succedere il boom proprio di questa azienda perché aveva fatto una nuova tecnologia, poi nuove mentalità proprio a quegli anni lì, l'arrivo del CAD CAM in azienda, le macchine a controllo numerico, tutto un nuovo sistema di proporre le macchine, un aspetto molto importante che era il look dell'azienda e ci temano molto e poi questa gente qui, questi dirigenti che erano dirigenti lungimiranti con idee innovative rispetto a quel momento, sono stati per me diciamo una pietra miliare nell'insegnamento e più questi qui ti davano la fiducia di fare quello che te avevi nelle ricordi, di quello che sentivi. Mi ricordo una volta sono stato con un direttore vendite, una trattativa molto difficile e mi ha chiesto lui, tu cosa faresti? Io gli esposi quello che era il mio pensiero e lui mi disse, fallo, non è che mi ha voluto magari modificare, mi ha detto fallo perché probabilmente era la cosa anche magari più giusta, però non ha mai messo il bastone fra le ruote anche ai giovani, anzi era un'azienda molto giovane che dava spazio ai giovani, questo è stato molto importante per uno che incomincia. Un incentivo sicuro. Sì, poi dopo di che io mi sono affiancato, ho chiesto ai miei clienti importanti, gente tipo Mario Carrara, Lazzareschi, Stefani, di poter stare il sabato mattina, tutta la mattina con loro in silenzio per apprendere da loro la loro mentalità, i loro trucchi, il loro modo di agire, di succhiare quella professionalità che io non ne avevo, non potevo andare a scuola e l'ho imparata da loro. Altra esperienza è stata importante quella anche che ho vissuto con i clienti, non soltanto dal punto di vista fisico essere lì, come dicevo prima, ma anche quello telefonico. Faccio un esempio, con tuo papà ci sentivamo durante i ritorni a casa, anche per un'ora, un'ora e mezzo, dove cercavamo, in quell'ora e mezzo, di scandagliare il mercato, di scandagliare le possibilità, di poter trovare soluzioni nuove, capire dove andava il mercato, avere anche dei feedback da parte dei clienti di cosa poter organizzare, di cosa poter fare. Con tuo papà è stato anche per esempio una cosa molto importante che ci ha fatto, sì, che tutti gli investimenti fatti e tutti quelli pensati in queste ore di viaggi, come con lui e con altri, hanno portato ad avere un risultato positivo, la crescita dell'azienda che te ben conosci e d'altra parte anche le aziende costruttrici di macchine ricevevano informazioni utili per poter poi inventare cose nuove o modificare macchine in base a quello che erano le richieste del mercato. E con questo mi vorrei collegare alla seconda domanda, che poi è un continuum. Dalla prima Fabio Perini in avanti, dunque anche Lucca si trasforma, un passo dopo l'altro, in uno dei poli mondiali del tissue. Ma diciamo che Lucca è, per continuare, il polo mondiale o il polo dell'Europa più importante. E questo si deve dire grazie alla Fabio Perini e a Fabio Perini che ha portato innovazioni tecnologiche molto importanti a livello di macchine, con fronte agli americani che erano i principali concorrenti, però che ha dato una spinta a tutti i trasformatori o i cartai lucchesi, che poi anche loro... Che ha coinvolto un po' anche tutto il tessuto... Ma ha preso tutto, l'indotto lì. E poi che succede? Anche involontariamente si facevano, fra virgolette, un po' come correre in bicicletta, uno andava in fuga comprando una macchina, quell'altro ne voleva comprare una uguale per non rimanere indietro e sono cresciuti in maniera incredibile. E in più hanno portato anche loro a vedere il mondo del tissue in maniera molto diversa da quello che era precedentemente. Quindi aziende magari di convocazione più artigianale, familiari, che hanno avuto coraggio e capacità di poter sfruttare questo momento, si sono trasformate... Aziende che prima erano un'azienda medio-piccole, hanno cominciato a ragionare con un'azienda con una mentalità, non dico da multinazionali perché non era ancora al momento, però la strada è da percorrere da quella. scimmiottare un po' le multinazionali cercando di fare quello che le multinazionali facevano con delle macchine continue, con dei sistemi che, diciamo, la tecnologia perini di quel momento permetteva di fare un prodotto abbastanza simile, non uguale, non poteva essere uguale, ma molto simile. E di lì è cominciato a modificarsi proprio il mercato del tissue, cercando prodotti nuovi, cercando vie diverse, cercando di modificare quello che era il rotolo igienico, il rotolo asciugatutto, che prima erano in una certa maniera. e di lì è partito tutto quello che è il marketing anche, perché il marketing ha proprio rivoluzionato questo settore. Avrei una domanda un po' più personale, se vogliamo metterla così, perché vorrei una tua opinione su un aspetto che spesso mi trova a pormi questa domanda. In questo settore c'è ancora spazio per gli italiani? Io intendo più per il settore macchine, macchinari, in questo mondo di carta, diciamo, e qui riprendo tutto quanto packaging, paper mill, converting. Dal tuo punto di vista, l'italianità ha ancora un valore aggiunto in mezzo a tutta questa tecnologia? Allora, gli italiani hanno questa grande fantasia, questa grande forza di trovare soluzioni facili a problemi difficili. Si è visto con Fabio Perini, poi anche con altre aziende che si sono impegnate a fare macchine, anche avere idee innovative. In Italia, diciamo, ci sono aziende che sono veramente nate anche dopo la Fabio Perini, che hanno avuto la forza, tipo Gambini, di, diciamo, fare in un foglio bianco creare qualcosa di nuovo, di nuovo di quello che c'era prima. Mentre prima le macchine erano copiate, diciamo, grosso modo, erano tutte molto simili, e a un certo punto degli anni 2000 c'è stata una svolta, dove qualcuno ha detto, va bene, c'ho un foglio bianco, cerco di fare qualcosa che gli altri non fanno. E di lì è venuto fuori delle idee di nuovi tipi di macchinari, anche perché il mercato, da rigido come era negli anni 80, c'era una goffratura per la cartigenica, come ben sai, una goffratura per l'asciugatutto, siamo passati da goffratori, goffra in colla con i disegnini, l'asciugatutto colorato, non colorato, con la stampa, perché il marketing chiedeva qualcosa di diverso, a dover avere una flessibilità maggiore. E ci sono state delle aziende che hanno portato questa flessibilità anche nelle trasformazioni, e di lì è cominciata proprio l'esplosione di tutti questi nuovi prodotti che te oggi trovi sul mercato. Quindi l'aspetto creativo comunque... L'aspetto creativo, poi l'aspetto anche, diciamo, innovativo della gente che si doveva inventare cose nuove per portare a casa un po' più di utile e cercare di prendere maggior mercato. Bene, Maurizio. Purtroppo il tempo vola e ci avviciniamo alla chiusura. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato tra noi, ma mi hanno detto che avevi portato una cosa per me. Sì, e siccome mi prendi sempre in giro per i pantaloncini della ciclista, con la scritta Daina nel sedere, scusa la parola, però era l'unico punto dove si vede bene, perché quando uno ti sta dietro vede scritto Daina. E con tuo papà, che è stato uno sponsor della squadra che si chiama Tissue Friends... Sì, questo lo ricordo vagamente, questo anello. E siccome io e tuo papà siamo due ciclisti, te sei uno che snobba la bici, e te li ho portati, te li regalo, però vorrei che tu li mettessi e mi stessi davanti. Sarà difficile, però provaci. Va bene, ci provo. Guarda, li metto in macchina, così ti sto davanti sicuro. In macchina sì. Va bene, va bene Maurizio. Allora, ti ringrazio ancora per essere stato con noi, per aver partecipato. Grazie a voi, grazie di avermi invitato, sono felice di aver fatto questa chiacchierata con te. Ringrazio anche tutti gli ospiti per averci seguiti durante questo viaggio. Ormai non possiamo più dire alla prossima puntata di A Carta Scoperte, ma speriamo a una prossima avventura, a una prossima prima puntata. Grazie a tutti.